piccolo robotino ciao amici miei guardate il carroattrezzi sta portando la peso verde in officina se ben ricordi si era scontrata con l'altra macchina nell'incrocio questa macchina non si muove più perché lo scontro è stato molto forte ecco perché il carroattrezzi la sta spostando sulla sua piattaforma ecco l'officina il carroattrezzi sta entrando per scaricare la peugeot vedremo quali parti della macchina si sono rotte e quali dovrebbero essere sostituite quindi lo speciale montacarichi fa scendere la macchina sul pavimento poi il montacarichi ritorna sulla piattaforma grazie caro attrezzi del tuo aiuto adesso dovremo sollevare la peugeot con uno speciale montacarichi in officina così potremo vedere meglio le parti rovinate abbiamo tutti gli attrezzi necessari per riparare l'auto quindi cominciamo vediamo cosa deve essere aggiustato abbiamo il paraurti rotto cofano ammaccato una ruota cardocciata e uno specchietro retrovisore rotto quindi dobbiamo cambiare tutti questi pezzi ecco un nuovo cofano e paraurti ma sono di colore diverso grigio ma ci serve verde quindi prendiamo la vernice verde e coloriamo i pezzi con uno spruzzatore speciale ok per prima cosa faremo il paraurti e poi il cofano ben fatto la vernice si asciuga molto in fretta giusto un paio di minuti ecco fatto adesso possiamo rimettere i pezzi sull'auto metteremo anche una nuova ruota e cambieremo lo specchietto retrovisore ok adesso possiamo abbassare il montacarichi ben fatto guarda questa bella macchina sembra nuova adesso evviva abbiamo fatto tutto così velocemente adesso la peugeot finalmente funziona ma dobbiamo stare molto attenti in strada e prestare attenzione al semaforo così eviteremo gli incidenti ok amici miei oggi non abbiamo solo visitato l'officina ma abbiamo anche aggiustato l'auto abbiamo anche verniciato il cofano e il paraurti come i veri meccanici è stato così interessante non è vero ci saranno altre avventure con le auto ci vediamo presto ciao ciao grazie per aver guardato il nostro cartone bimbi per favore scegli cosa puoi vedere ora abbiamo molti molti cartoni interessanti ciao 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 ciao